Viaggiare è una delle esperienze più arricchenti che si possano vivere, ma spesso è visto come un lusso riservato a pochi. Come viaggiare con un budget ridotto. Con un po' di pianificazione e creatività, è possibile esplorare il mondo anche con un budget ridotto. In questo articolo, scopriremo alcuni trucchi e consigli per viaggiare senza spendere una fortuna, mantenendo comunque la qualità e il divertimento della tua avventura. Pianificazione anticipata, il segreto per viaggiare senza spendere una fortuna. Viaggiare con un budget ridotto non significa dover rinunciare alle esperienze più belle. La pianificazione anticipata è fondamentale per trovare le migliori offerte su voli, alloggi e attività. Inizia a pianificare il tuo viaggio con diversi mesi di anticipo, utilizzando siti di comparazione prezzi come Skyscanner o Google Flights per monitorare le tariffe e trovare le opzioni più economiche. In questo modo, potrai cogliere le migliori opportunità e risparmiare una somma considerevole. Iscriviti alle newsletter delle compagnie aeree e dei siti di viaggio per essere sempre aggiornato sulle offerte lampo e sui saldi stagionali. Spesso, queste promozioni durano solo poche ore, quindi essere tra i primi a sapere ti darà un notevole vantaggio. Inoltre, considera di impostare avvisi di prezzo per le destinazioni che ti interessano, in questo modo, riceverai notifiche quando i prezzi scendono. Viaggiare in bassa stagione. Un altro trucco per risparmiare è viaggiare in bassa stagione. Le destinazioni turistiche sono generalmente meno affollate e le tariffe per voli e alloggi sono più basse. Prenotare con largo anticipo ti permetterà di ottenere tariffe più convenienti e di avere una maggiore selezione di opzioni tra cui scegliere. Viaggiare al di fuori dell'alta stagione può essere notevolmente più economico. Il risparmio su hotel, voli e servizi di viaggio può essere significativo quando si scelgono periodi di vacanza meno popolari. Un ulteriore vantaggio è che ci saranno meno turisti, permettendoti di goderti la cultura e le attrazioni della zona in modo più autentico e ponderato. Non sottovalutare l'importanza di una buona pianificazione. Può fare la differenza tra un viaggio costoso e uno economico ma altrettanto appagante. Impara la cucina locale. Non è necessario soggiornare in hotel di lusso per godersi un viaggio indimenticabile. Esplorare opzioni di alloggio più economiche può non solo aiutarti a risparmiare, ma anche offrirti esperienze uniche. Gli ostelli sono un'ottima scelta per i viaggiatori con budget ridotti. Offrono tariffe basse e spesso includono servizi come cucine comuni e attività sociali. Inoltre, i bed e breakfast possono essere un'alternativa accogliente e conveniente, permettendoti di godere di un'atmosfera più intima e familiare. Piattaforme come Airbnb e CatchSurfing offrono soluzioni di alloggio a prezzi accessibili e spesso permettono di vivere come un locale. Airbnb offre una vasta gamma di opzioni, dalle stanze private agli appartamenti interi, permettendoti di scegliere ciò che meglio si adatta al tuo budget e alle tue esigenze. CatchSurfing, invece, ti consente di soggiornare gratuitamente presso abitanti del posto, favorendo scambi culturali e nuove amicizie. Se sei aperto a soluzioni ancora più creative, considera lo scambio di case o il volontariato in cambio di vitto e alloggio. Esistono numerose piattaforme online che facilitano lo scambio di case, permettendoti di vivere in una nuova città senza spendere un centesimo per l'alloggio. Il volontariato, invece, può offrirti l'opportunità di viaggiare e contribuire a una buona causa, ricevendo in cambio ospitalità gratuita. Queste opzioni non solo riducono i costi, ma arricchiscono anche la tua esperienza di viaggio. Come viaggiare con un budget ridotto Viaggiare con un budget ridotto è assolutamente possibile e può essere altrettanto, se non più, gratificante di un viaggio lussuoso. Pianificando in anticipo e sfruttando soluzioni di alloggio creative, potrai vivere avventure indimenticabili senza svuotare il portafoglio. Ricorda, il vero valore di un viaggio non si misura in denaro, ma nelle le esperienze e nei ricordi che porterai con te per tutta la vita. Buon viaggio!